Salve a tutti, siamo sul campanile della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale, quartiere periferico di Bologna, dove troviamo un concerto di quattro campane montate alla bolognese, di cui la grossa, presumibilmente, ma non si riesce a capire, è forse una Fantuzzi o una Golfieri, però non recchia iscrizioni, è comunque una campana antica. La mezzana di Cesare Brighenti, la mezzanella di Angelo Rasori e la piccola, collocata al piano superiore del castello, di Angelo Rasori. Adesso sentiremo il battiore delle ore 10 e 30 del mattino, botti delle ore sulla campana maggiore e quello della mezza sulla campana mezzanella o terza, per ottenere l'intervallo di terza maggiore. Queste campane sono state fermate per motivi di staticità del campanile. Ecco, in passato sicuramente si suonava, c'è ancora le tracce evidenti delle corde dei campanari, usati, i ciappi usati nel suono a doppio. Ecco, una panoramica la via Marche Emilio Lepido, che è la prosecuzione della via Emilia, verso Modena. E adesso attendiamo il battiore. Vediamo i martelli. Ecco, la scala che porta all'aguglia. Ecco. Ecco, la scala che porta all'aguglia. Adesso ho legato i cordini per un eventuale futuro scampanio, che è l'unica tecnica attualmente praticabile, non potendosi muovere le campane. Ecco, vedete. Ci sono appunto i cordini, gli sforzini e magari in futuro per qualche solennità, qualche ricorrenza parrocchiale, si potrà suonare con questa tecnica. Ecco. Allora un'altra panoramica sulle colline, il santuario di San Luca, da questo campanile. A presto.